Torniamo in campo a distanza di breve tempo e questo sicuramente non è una cosa semplice perché abbiamo fatto solo un allenamento, ora siamo in procinto di farne un altro e voglio capire bene chi sono i ragazzi che hanno recuperato bene e quali sono i ragazzi che possono affrontare questa partita difficile, molto difficile per riuscire ancora a ben figurare in questo campionato e dare la continuità che tutti quanti stiamo cercando. Quindi partita complicata però sono convinto che avremo le qualità per riuscire a affrontarla nel modo giusto. Sicuramente Salzano e Economu saranno fuori, molto probabilmente abbiamo degli acciaccati ora fare dei nomi però abbiamo Floro Flores che è acciaccato, Gionberg che è acciaccato, Brienza che non è stato bene nella partita scorsa, siamo stati insieme solo un giorno dopo aver speso tanto nella partita scorsa, dopo aver fatto un bel viaggio lungo di rientro e abbiamo avuto un giorno per stare insieme e oggi è il secondo che ci ritroviamo quindi sicuramente oggi avrò le idee molto più chiare per quanto riguarda la formazione da mettere in campo domani. Ho tanti ragazzi a disposizione che si allenano bene e che quanto prima avranno l'opportunità per essere rilanciati ma non si tratta né di essere rilanciati né di continuare a fare quello che stiamo facendo perché siamo stati bravi spesso in questo campionato a saper reagire nei momenti difficili e a tirare fuori le unghie. A volte siamo stati un po' meno bravi quando era il momento di confermarsi. Siamo riusciti a farla a Terni e abbiamo tanta voglia di volerci provare anche martedì sapendo di affrontare una squadra che è in un momento di forma ottimale sia fisico sia psicologico che tecnico perché viene da una partita in cui hanno fatto molto molto bene, insomma è una se non la miglior difesa del campionato. E' l'esempio lampante di come questo campionato possa all'improvviso cambiare le classifiche perché sono partiti un po' in sordina, poi sono venuti fuori e ora insomma hanno tanti punti e si stanno giocando meritatamente le loro carte per essere protagonisti in questo campionato quindi massima attenzione contro un avversario difficile però insomma non penso ci possano essere avversari facili in questo campionato quindi la stiamo preparando bene come pensiamo di fare ogni partita. Viene da diversi risultati positivi, sicuramente ha fatto molto meglio in casa perché hanno lo stesso nostro score casalingo e fuori casa soprattutto all'inizio hanno fatto tanta fatica, poi si sono sbloccati e hanno fatto anche dei risultati importanti perché non tanto distante sono andati a pareggiare a Parma, insomma hanno pareggiato a Novara sono una squadra che ha ottimi valori, è un mix che ha dei giovani interessanti ma è un mix anche di esperienza perché ha giocatori di categoria e anche di categoria superiore quindi sicuramente andremo ad affrontare una squadra che avrà tutte le armi per poterci mettere in difficoltà e questo noi lo dobbiamo sapere bene ma credo che siamo molto consapevoli di quello che andiamo ad affrontare. Noi dobbiamo essere bravi a trovare quella continuità necessaria in un campionato del genere per poter fare qualcosa di bello. La continuità siamo stati in grado di scoprirla solo ed esclusivamente quando siamo stati in grado di mettere le caratteristiche che fanno sì che una squadra diventi squadra e quelle caratteristiche non dobbiamo mai perderle che sono quella della determinazione, del carattere e della voglia di voler fare bene le partite. Sopra tutte queste caratteristiche dobbiamo essere bravi a saperci appoggiare e quello su cui lavoriamo quotidianamente, insomma il nostro gioco, la nostra voglia di provare a imporlo e a tratti ci siamo riusciti, a tratti non ci siamo riusciti però il senso di volerci sempre provare sicuramente ci ha dato una grande mano ultimamente. Non credo sia la stessa partita quella di domani rispetto a quella di Terni perché a Terni affrontavamo una squadra in difficoltà e quando siamo stati bravi a prendere campo sicuramente abbiamo accentuato tutte le loro difficoltà del momento. Domani invece affrontiamo una squadra che è carica di entusiasmo, che arriva qui consapevole del fatto che può sicuramente fare un'ottima partita e quindi dovremo essere molto più attenti nel possesso palla dovremo essere attenti quando gli avversari proveranno a metterci in difficoltà sapendo che la gara sarà lunga e che noi abbiamo tutte le qualità per poter fare bene anche nella partita di domani.